Ciao a tutti, buonasera, mi chiamo Giuseppe Fiorello e sono il regista del film Stranizza da Muri. Voglio ringraziare il Festival del Cinema Italiano di Tours, voglio ringraziare subito la signora Enrica Panero per aver ospitato il film, voglio ringraziare tutti gli amici di Pulsar, voglio ringraziare voi, voglio ringraziare il pubblico, tutti i ragazzi e tutte le ragazze che hanno visto il film, ringraziare anche la giuria che ha deciso di dedicare a Stranizza da Muri questo riconoscimento, vi porto i saluti e un grazie di cuore da parte di tutto il cast artistico e tecnico del film, da parte della produzione, della produttrice Eleonora Pratelli, di Rai Cinema, di tutte le persone che hanno collaborato a questo film. Per noi il film, per tutte le persone che fanno questo di mestiere, raccontano storie, questo film per noi è anche un pezzo di vita molto importante. Questo riconoscimento lo dedico ai due ragazzi siciliani, a quei due ragazzi di giarre che nel 1980 furono uccisi perché si amavano e noi non li dimentichiamo. Grazie ancora a tutti e buon cinema a tutti, buona serata, buon festival.